parlando sempre di light drifting in alternativa all'innesco alla costruzione del terminale con il singolo amo possiamo utilizzare anche il doppio amo sempre per prima cosa logicamente facciamo il nostro rinforzo quindi filo più grosso su filo più sottile assucchiamo e seriamo il tutto per fare questo tipo di terminale occorre lasciare il filo un po più grosso leggermente più lungo in modo da legare perfettamente l'amo anzi il doppio amo procediamo prima alla legatura del primo amo a distanza un pochino più vicina di quella come abbiamo visto nel caso di quando abbiamo parlato del singolo amo quindi noi abbiamo il primo amo legato e leghiamo di conseguenza il secondo amo a circa 3-4 centimetri dal primo amo ecco l'innesco della sarda in questo caso risulta migliore di massima resistenza e lo stesso abbiamo anche più possibilità di allamare il pesce ed evitare che questo tocchi con i denti il filo è un problema per farlo